Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Quel Taleale, eccoci qui di nuovo con Dragon Ball Xenoverse Allora riprendiamo da dove ci siamo lasciati, ho cambiato un po' il nostro setup C'è un altro incarico, se ci sono nemici potenti ovunque fa molta attenzione Va bene dicevo ho ricambiato un po' il setup perché dopo aver provato ad utilizzare anche i super colpi, gli attacchi con Laura direi di tornare un po' a menare le mani che dite Proviamo eh, arriverà presto ok Vediamo Qua mi sa che andiamo sempre verso il più difficile compito per il nostro Poku Vediamo Va bene Sì vediamo cosa tocca fare a Poku perché qua Ah è le sfere del drago Mi raccomando eh, un aiuto cazzuto e cattivo perché Il nostro Poku secondo me qua prenderà un sacco di botte Vedremo, vedremo Chaos totale, scontro fra i rivali, sconfiggi tutti i nemici Tipo? Freezer, Cell, perfetto E Majin Bua, proprio tutti i personaggi della saga Eh vabbè, chi ci aiuta? Ah, nessuno Bene Allora aspetta Aspetta, fuggiamo un attimo Momento No, più che Majin Bua andiamo su Freezer Panico Aia Eh sì ho attivato perché ho fatto l'allenamento con Vegeta Quindi ho sbloccato il frantumatore finale Aia Vado un po' con gli attacchi a mano Messo con questa configurazione di vestiario Vai così Cerco di togliermi prima Freezer che in teoria tra questi dovrebbe essere quello un po' più Sfattibile E fa fa' il culo Perché sono in tre quindi E basta Venga qui Merda Ma qualcuno che mi viene a dare una mano Non è vero Guarda che figlio di Che si va Ah bomba, bomba Ci fermiamo più Attenzione che è successo Ah Goku, attenzione Ci viene a dare una mano Meno male Grande Goku Ah ma che fa? Ripartiamo da Gau Ma come? Ha rimesso Freezer al massimo Aia No non mi fermo a ricaricare Laura Preferisco Guadagnarla un po' Attaccando Aia Aspetta E qua Almeno c'è Goku che Dovrebbe Ma sì Andiamo così con i colpi da panico Guarda Alterniamo un po' Tra l'altro Tra l'altro ne ho messo anche un altro Che è il Colpo Ah ok Riproviamo No Merda Che l'ho sbloccato Con una missione secondaria Vediamo Allora Già che ci siamo Recupero un po' d'aura Adesso vado a dare una mano al Goku Andere Ok Merda 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 Goku si occupa di Majin V Possa che trambata Ma se Uno capsule di energia rigenerante Aia Sì magari Guadagniamo un po' di energia Pian piano Tacci su Dai Dai Guardate sono abbastanza difficili Quante barre dell'energia C'ha Tacci su Ma cos'è Vabbè una spammata di questo ci sta Almeno una Ora ritorniamo in questi attacchi Scusate ma Visto lo scontro Non potrebbe arrivare qualcun altro A darci una mano Aia Dai è Goku Eh troppo Mira un po' farlocca del nostro Goku Aia Aia Figlio Una mula Ok Dov'è Majin Eccolo io Kid Bu Aia Che fa lì Prendo in faccia io Sì Dai è Goku E' una mano anch'io Guarda che figlio Aia Maledetto Eh ma Eh che cos'è Ho problemi di parata Goku però dammela una mano E cos'è Cioè tanto vale che mi stavo distante Buonanotte Aia Vediamo se c'è un'altra barra della vita Assolutamente si Dai via Usciso Dai Goku Spamma qualcosa Dai qua Dai che ci sta Eh però si riprende facile Sto cazzo No signora Dai yeh Merda Guarda Taffanculo Non ce la faremo mai Maledetto Oh dai Dai è così Perfetto Vediamo Chi arriva Aia Se c'è C'è Omare Aspetta Poi devo riprendere la vita Siamo con Godenx Sì ma scusate Mandate almeno qualcun altro Che ci da una mano Sono un po' Aia Un po' troppi per noi Spero che Goku resista Che non mi andranno ad attaccare gli altri Merda Cazzo Merda Fanculo Vabbè non riesco a fare niente Vieni qua Fottuto Naturalmente anche questo avrà la doppia barra Immagino Infatti che non vedo una sega Dov'è? Ho pure resisti Mi raccomando Merda C'è un'altra barra Sì Eh vabbè non ce la faremo mai Adesso sono tosta Di più Goku intanto si è trasformato in supersariano Grandissimo Aia E anche perché le capsule Sto iniziando a finirne Aia Goku me le stanno massacrando Le onde ne ho già riuscito E poi in realtà mi conviene mettere Super saiyan Quando ho la Bra al massimo Tipo ora E poi vai da panico Ok Andiamo ad aiutare Goku Aspetta Prova a regolare un pochino Aia Merda Vai a bomba Così Dov'è? Sì ma Scusate Merda No Cazzo No 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 E la Puttana troia Perché è morto anche Goku Perfetto Perfetto E naturalmente qua ci fa rifare tutto da capo Quindi magari Ma che missioni del cazzo Cioè adesso io mi devo rifare tutto quanto da capo Sì Perfetto Vabbè ci vedremo quando riuscirò a finire Magari Probabilmente ci vorrà un mese o due Allora riproviamo lo scontro Qui partendo da qui Presumo che sarà improponibile lo stesso E adesso mi sto Concentrando su Vegeta se riesco Se sono sempre Goten Se Vegeta Dai Aia Go on Iniezione Merda Ciao mare Eh non è complicato Di più Merda Provo con Vegeta Magari Ragazzi sono un po' più semplici Lasciamo a Goku Sennò ci muore Abbiamo bisogno di Goku Merda Il problema è che naturalmente arrivo qua Che ho già utilizzato alcune capsule Ne ho solo un paio Vediamo cosa riusciamo a fare Merda Occhio Proviamo Di nuovo Di nuovo Perché è la doppia barra Vegeta Se riusciamo a tagliarne un po' Non sarà Di nuovo Il problema sarà anche dopo L'importante è riuscire a non far Merda Morire Goku Perché poi se ce l'abbiamo tutti contro di noi Badassi che è persa Tiporeggiamo un po' Perché non possiamo neanche provare Con scatto Guarda sto figlio E' una battaglia E' una battaglia bella complicata questa Capra Sta cercando di parlare con Vegeta Vediamo se si riprende Eh non basta lo so Lo sto cercando di pestare Ci stiamo provando Damos Eh cazzo Perfetto siamo morti Aia No Gotenks Prendi Vegeta Che stiamo Di a buon punto Magari Si riprendesse Ci viene a dare una mano L'importante è che Goku resista Un altro gol Guarda Eh vabbè Ok Dov'è Gotenks Chissà quanti Ne dovranno arrivare Il problema Qual è che ci fa rifare Tutto da capo E questo mi fa incazzare Tra le tante cose Perché ok Capisco che Muoio nella seconda parte Contro sti tre Non mi fa rifare Sennò fanno un uomo Un po' Un po' Una bastardata Adesso Stai affanculo Altra barra Goku mi raccomando Resisti Che due non li reggo Ok Ok Vai a bomba subito Venga qui Guarda Sto Di nuovo Di nuovo va Prima che ci scade Super Saiyan Ecco liscio Questo si Almeno siamo durati un po' di più rispetto Come non detto Rispetto a prima Soprattutto Goku Adesso magari gli andiamo Merda A dare una mano Ok Dov'è? C'è un po' di nuovo Gohan Scusi Gohan Così con cattiveria Goku non è neanche Super Saiyan Non so se Prima si sia trasformato Spero che almeno salvi Dopo questa Se riusciamo sempre a concludere Questa seconda parte Perché Tutto non me lo rifaccio Un'altra volta Non è possibile Sono qua Pesterniamo Come se non ci fosse un domani Venga qua Aia Maldetto Faffanculo Merda Non almeno con questo Dai con cattiveria Merda Aia Dai che non manca Tantissimo Merda Eh mica tanto Via Eh sto cazzo No aspetta Io non voglio rischiare Di morire adesso Mamma mia Per un pelo Ragazzi Non possiamo rischiare Di morire adesso Di nuovo Di nuovo Eh troppo lontano E basta Che cazzo Questo bastardo Resiste però Eh Vieni qua Eh Si capisce un cazzo Qua dentro Goku due colpetti Dagliali pure tu Tanto per So che è tuo figlio Però Non vedo un cazzo Non vedo un cazzo Cioè Li manca uno sputo Ma non riusciamo A Adesso maledetto Eh E che cos'è Con cattiveria Proprio Si questa è stata Bella difficilotta Va bene Ci ha dato anche Un bel po' di esperienza Però Avanti No Torniamo al covo Magari la prossima Ce la facciamo Nel prossimo episodio Ragazzi Si 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 Torniamo al covo Proseguiremo Con il prossimo appuntamento Perché Questa è abbastanza lunghetta Eh Ci vediamo allora Con il prossimo appuntamento Con Dragon Ball Xenoverse Mi raccomando Che sempre commentate Fatemi sapere la vostra E ci vediamo con il prossimo appuntamento Con il nostro Goku Un saluto a tutti Da Quel Taleale